Buongiorno a tutti, buon lunedì, inizia una settimana in teoria più tranquilla, lato calcio, lato Juve, lato Serie A, la settimana di pausa nazionali, però faccio un pochino il pensiero a quelli che sono state le ultime pause nazionali e mi vengono i brividi lungo la schiena, tutti i miei peli si drizzano e si preparano a attraversare, boh non lo so, chissà quale tipo di scandalo, chissà chi avrà fatto cosa e questo sarà proprio il momento giusto per tirarlo fuori perché si potrà concentrare tutta la discussione mediatica che fa leva sul mondo del calcio, su quella roba che non parla di calcio ma ci sono i protagonisti del calcio. Ma tu guardate, 100%, sento già Fabrizio Corona che non ci sta più dentro, che vuole fare i prossimi numeri del calcio scommisso o andrà a spiegare i motivi della rottura della Bobo TV, salterà fuori qualcosa di grosso, non lo so. Cosa potrà succedere in questa pausa nazionale? Noi abbiamo una sola certezza, anzi due. La prima è che ho tanti contenuti da portarvi e spero veramente che non accada niente di allucinante, adesso torniamo seri perché mi piacerebbe entrare nella discussione vera e propria che vi facevo anche l'altro giorno con la domanda finale al video e cioè che cosa è cambiato nella Juve rispetto all'anno scorso. Io ho già più di una risposta, ieri ne ho parlato anche su Twitter, mi avete risposto in tanti, è venuta fuori una bella discussione e voglio dirvi la mia opinione perché ho due, tre chiavi di lettura molto interessanti. Una, lo sapete, è quella relativa all'assenza delle coppe da giocare, quindi il fatto che la Juventus debba preparare soltanto una gara a settimana ma non è l'unica, questa è soltanto quella preliminare e di cui ho già parlato, voglio entrare decisamente più nel dettaglio della discussione e per questo ho convocato degli esperti e quindi faremo delle discussioni insieme ad altri content creator. La seconda è che l'Inter con la vittoria di Iris era per 2-0 con il Froseno nel gran gol di Di Marco, secondo me non voleva fare gol ma fa lo stesso, il gol gli è venuto fuori, è meraviglioso, io stasera gioco una partita agli amatori, vorrei fare un gol uguale non volendo farlo, sarebbe meraviglioso. Esulterà è lo stesso. Purtroppo l'Inter ha vinto e quindi non ci sarà uno scontro diretto giocato a pari punti, ci sarà uno scontro diretto nel quale la Juve potrà mantenere invariata questa distanza di due punti con il pareggio, potrà sorpassare l'Inter di un punto con la vittoria oppure potrà sprofondare di ben 5 lunghezze in caso di sconfitta. Sono tre possibilità di risultato, ognuna di esse porta ad una riflessione differente, anche se come vi dicevo nel contenuto di ieri andiamoci piano, se non molto piano, a parlare di questa Juve, perché le prossime tre partite sono importanti, sono toste, nonostante il Napoli non stia affrontando un momento di chissà quale livello, ma la partita con la Juve per il Napoli è sempre una partita a parte. C'è il Monza che l'anno scorso ci ha battuto, mi pare, ben due volte e poi appunto c'è l'Inter. C'è l'Inter e bisogna stare molto molto attenti, poi per me i giudizi definitivi li si potrà tirare festeggiando il capodanno, perché poi il 30 di dicembre c'è una partita contro la Roma, che ieri ha presentato uno spettacolo orrendo nel derby con la Lazio, ma sarà una partita tosta perché Juve e Roma hanno dalla loro quella volontà di essere un po' più cauti rispetto agli avversari, quindi queste sono le possibilità inerenti al derby d'Italia. Io prima di tutto però voglio parlarvi della figura vera e propria di Massimiliano Allegri. Ora, so che per qualcuno è un argomento noioso, spinoso, banalmente superfluo, però io voglio raccontarvi la mia opinione su Massimiliano Allegri. Cioè, voglio veramente spiegarvi oggi che cosa penso di Allegri in relazione ai risultati, in relazione alle prestazioni e bla bla bla, perché qua bisogna fare veramente due distinguo, anzi un distinguo e due casi. A livello di punti, la Juventus superlativa, quindi dal punto di vista del risultato tutti bravissimi tutti, compreso Massimiliano Allegri, dal punto di vista delle prestazioni tutti da rivedere, compreso Massimiliano Allegri. Ok? Partendo da questo punto qua. E il fatto che in questo momento si sia tornati a parlare con forza di risultato contro prestazione, c'è un motivo solo, e cioè la Juve sta facendo punti. Questo è l'unico motivo, perché per anni non abbiamo sentito parlare di risultato contro prestazione, perché le prestazioni della Juventus avevano portato a dei risultati terrificanti. Ora, le stesse prestazioni della Juventus, e quindi torna la domanda prima, che cos'è cambiato? Stanno portando risultati. Sono risultati parziali, non definitivi, ovviamente. Io sono sempre stato molto trasparente, e cioè vi avevo detto che l'anno scorso, dopo Monza, avrei esonerato Massimiliano Allegri, non vedevo più la possibilità di andare avanti in stagione con lui, non vedevo futuro con Massimiliano Allegri, e lo avrei cambiato anche al termine della scorsa stagione. La Juventus ha deciso di confermare Allegri, poi è entrato Giuntoli all'interno della Juventus, e quindi semplicemente Giuntoli doveva iniziare a ragionare, a valutare Allegri da quel momento in cui è arrivato alla Juve. E quindi, vi dicevo, non avrebbe senso esonerare Allegri dopo averlo confermato, ma non perché non lo voglia io, perché nel ragionamento Juve non avrebbe senso. Devi valutarlo da quando lo confermi in poi. Quindi vi dico, oggi, secondo me, se ragiono come deve ragionare la Juventus, perché è poi la Juventus che prende le decisioni, la Juventus oggi non ha la necessità di esonerare Massimiliano Allegri. Non ce l'ha. Anche perché una cosa ti aspetti se vai a prendere Allegri, che ti porti dei risultati. Attenzione, lo voglio dire ancora una volta, oggi non ci sono risultati. Cioè, questa classifica in cui la Juventus è a meno due dell'Inter, che come dicevamo prima è meravigliosa, sono stati bravissimi tutti a conquistarla, a costruirla, non è che vale zero, va nemmeno di zero, perché è una classifica parziale. Non è finito il campionato oggi, non si è arrivato a meno due dalla squadra che ha vinto lo scudetto. Se sarà così, poi ne parleremo, ma io ho ben chiara già la mia situazione in testa, perché tante volte la gente mi chiede ma se Allegri dovesse vincere lo scudetto, lo riconfermeresti? Io sono dell'idea che quest'anno c'è Allegri, l'hanno confermato, in questo momento i risultati stanno dando ragione ad Allegri, non sono soddisfatto di quello che vedo, secondo me la Juve non è nemmeno destinata a continuare questa serie di successi, ma questo lo deciderà al campo, non lo decide Luca Toselli, lo deciderà al campo, vedremo. Secondo me c'è modo anche diverso di raggiungere quei risultati, però Allegri li raggiunge così. Lo sappiamo e lo sapevamo da quando è stato selezionato Allegri come nuovo allenatore della Juventus. Non ha funzionato, ora sta funzionando, vedremo se funzionerà. E questo è il punto, e questo è il punto. Perché poi Allegri, oltre a questa stagione, avrà un ultimo anno di contratto. Quindi la Juventus su Allegri dovrà iniziare a ragionare sia in caso di vittoria, sia in caso di sconfitta, sia in caso di arrivo a due punti dalla prima, sia in caso di quinto posto. In ogni caso la Juve su Allegri deve ragionarci. Cioè Allegri arriva al 31-24 e poi al contratto in scadenza al 31-25. Quindi che cosa vuoi fare? Un'ultima stagione con Allegri? Metti che, non lo so, vincono lo scudetto e vuoi fare un'ultima stagione con Allegri? O arrivi in Champions, che è l'obiettivo minimo dichiarato, dove fare un'ultima stagione con Allegri? Oppure dici, dato che c'è un'ultima stagione, inizia a guardarmi intorno, se trova un allenatore che mi piace, lo metto sulla panchina della Juventus? Io non so cosa farà la Juventus, come ragionerà la Juve. Io la mia idea ce l'ho. Ed è un'idea, secondo me, estremamente semplice, anzi banalmente semplice. Perché, dal canto mio, spero che Allegri possa vincere lo scudetto quest'anno e quindi riportare la Juventus sul tetto d'Italia e poi salutare da vincitore e non fare l'ultimo anno di contratto con la Juve. Vi spiego anche il perché. Anzi, un perché ve l'avevo già detto e l'anno scorso vi dicevo, spero che la Juventus possa esonerare Massimiliano Allegri principalmente perché è diventato impossibile discutere di calcio. Cioè, se avrete fatto caso benissimo, quando si parla di Allegri, mezza parola a favore di Allegri se è un Allegriano, mezza parola a favore di Allegri se è un Anti-Allegriano. Impossibile costruire, impossibile dialogare, impossibile chiacchierare. È tutto estremamente schematico. È tutto estremamente precostruito. Si ragiona solo per preconcetti. E a me questa roba fa banalmente schifo. Ieri sera, dopo l'Inter, che non ho visto, ero a casa di amici, stavamo ascoltando la TV, è partito pressing. Mi bolliva il sangue, devo dirvi la verità, mi bolliva il sangue a vedere delle discussioni a volte anche così superficiali da parte di persone che, cavolo, hanno fatto per anni e sono convinto che possano dare decisamente di più di quella discussione lì, ma forse è più facile dare quella discussione lì. E mi dispiace tanto. Mi dispiace veramente tanto perché? Perché qui su YouTube stiamo costruendo da ormai dieci anni, poi negli ultimi stiamo intensificando tanto proprio dei modi di comunicare differenti, più aperti al dialogo, al fatto che ci siano idee differenti e prendere il buono da ogni idea, rispettarle e discuterle. Quindi io sono fiero di noi, della nostra community, di quello che stiamo facendo. Vi faccio un grande applauso, grandi complimenti. La mia idea è molto semplice. È questa qua. in seconda battuta vi dico che l'altro motivo per cui spero che comunque anche in caso di Scudetto poi la Juventus l'anno prossimo andrà a fare un'altra scelta al di là del fatto che banalmente dopo tre anni che vedi un tipo di calcio e magari un tipo di calcio che nemmeno ti convince il tifoso ha voglia della novità. Cioè non prendiamoci in giro. L'essere umano è attratto dal nuovo e dal voler cambiare. Io faccio l'ipotesi che la Juve quest'anno vinca lo Scudetto. Ipotizziamolo, no? Facciamo questa ipotesi. L'anno prossimo perché vincere un conto e confermarsi un altro lo stiamo vedendo con Napoli e Milan ma l'anno prossimo quando poi ricomincerà il campionato quale sarà la sensazione che avremo sulla Juve? Questa Juve nello specifico che magari vincerà lo Scudetto cosa che secondo me non succederà. È una squadra che l'anno scorso ha dato tutto quello che poteva un allenatore che ha utilizzato un metodo che solitamente non dà possibilità di replica se non in caso di rose estremamente più forti di quelle altre e che quindi che per ripetersi avrà necessità di compiere un vero e proprio miracolo. Vi faccio un esempio. Gli ultimi due squadre che hanno vinto sono Milano e Napoli che in questo momento stanno avendo difficoltà. Però il Napoli dopo aver vinto lo Scudetto ha cambiato allenatore. Ecco. il Napoli con Spalletti secondo me avrebbe avuto decisamente più possibilità di rivincere lo Scudetto l'anno successivo rispetto al Milan di Pioli. Per quanto siano state sia il Milan che il Napoli due squadre che hanno vinto lo Scudetto per me non con la rosa migliore in Italia perché comunque c'erano quelle di Juventus e Inter che orbitavano all'interno dei rispettivi campionati il Napoli ti dava la sensazione di essere veramente una squadra compatta che sapeva cosa fare che abbinava una buona fase difensiva una buona fase offensiva invece il Milan una squadra che aveva fatto veramente oltre le potenzialità e che si era arrivato a strappare quello Scudetto all'Inter era perché ci aveva creduto fino alla fine almeno questa è la mia lettura degli ultimi due Scudetti squadre che hanno meritato di vincere perché sia Milan che Napoli hanno meritato di vincere il tricolore ma sensazioni diverse ti hanno lasciato quel lamarognolo differente quel gusto differente in bocca per quanto io mi sia divertito tanto a guardare le partite del Milan di Pioli l'anno dello Scudetto però il Napoli l'anno scorso era un'altra roba era veramente la squadra che meritava vincere lo Scudetto non tanto perché non c'erano altre competitor antagoniste ma perché si vedeva che era in grado di fare quel qualcosa in più quindi probabilmente il Napoli con Spalletti ancora in panchina quest'anno sarebbe stata una seria candidata molto più credibile rispetto al Napoli di Garcia poi dicevamo prima vincere un conto confermarsi è estremamente più difficile magari alcuni calciatori si sono sentiti arrivati dopo uno Scudetto può essere assolutamente sì però idealmente proprio dal punto di vista del costruito io la vedo così quindi anche vincendo uno Scudetto quest'anno con questa Juve con Allegri che continuerà magari ad andare avanti in questo modo e a fare dei punti perché Allegri i punti in serie sa farli e non prendiamoci in giro questa è la storia che ce lo dice e poche volte cambiando la sua mentalità quindi magari arriva e vincerà lo Scudetto quest'anno non lo so secondo me no però ammetti che vincerà lo Scudetto l'anno prossimo è una serie di partenza come ci ripresentiamo come una squadra credibile o poco credibile secondo me poco credibile perché poi è la domanda che vi facevo all'inizio del video che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso che oggi punti rifacciamo e l'anno scorso no ma dal punto di vista di quello che mettiamo in campo non sembra esserci tanta differenza che cos'è cambiato probabilmente adesso provo a dare una leggera spolveratina di quella che sarà la risposta perché la squadra ci crede molto di più perché ci sono meno impegni perché ci si tiene anche qualcosina in più ci si tiene e quindi la squadra in questo momento sta raccogliendo non è la mia risposta definitiva su questo farò un video a parte però questi sono alcuni degli aspetti che devi mettere nel calderone quindi sarebbe bellissimo tornare a vincere sarebbe bellissimo salutare Allegri con uno scoglietto esattamente come era stato anni fa anche perché Allegri in questo momento si è rovinato quella che è la sua immagine di vincitore di allenatore vincente con la Juve perché le ultime due annate sono state francamente inaccettabili difficili da digerire per il tifoso quindi sarebbe per me meraviglioso vincere lo scudetto quest'anno e dirgli guarda Max grazie è l'ultimo anno di contratto non lo facciamo insieme perché abbiamo la volontà di cambiare e di arrivarci in un altro modo di costruire con un altro allenatore di aspettare anche un altro allenatore come abbiamo fatto con te in tre anni che poi hanno portato lo scudetto bene considerati libero cercati un'altra squadra se la trovi bene e quindi puoi andare sulla panchina se non la trovi ti pagheremo l'ultimo anno di contratto per stare a casa questo è un po' secondo me sarebbe il finale perfetto di questa stagione poi io devo dirvi la verità spero di vincere lo scudetto grandissimo sì gigalitico sì però spero anche di vedere delle prestazioni differenti perché cavolo qua se no bisogna farmi un controllino alle coronarie tutte le volte che giochiamo una partita perché soffriamo col Cagliari soffriamo con la Fiorentina soffriamo che con l'Ella se non la buttiamo dentro fino all'ultimo sono partite che alla fine finiscono e io prima della gioia ho l'ansia che sgorga che dalla testa deve scendere fino ai piedi poi quando l'ansia viene giù sono contento guardando la classifica ma non per aver vissuto quell'ora e mezza due ore di partita perché sono stato catturato sono sincero poi i risultati stanno dando ragione meraviglioso siamo a meno due dall'Inter e quindi il derby d'Italia diventa una partita fondamentale però poi bisogna vedere se quello che andremo a proporre in campo con l'Inter dato che servirà qualcosa di più per forza di cose e fino adesso non lo stiamo provando qualcosa di più o almeno da Sassuolo in poi non lo stiamo più provando non possiamo pretendere che sia un on off e quindi magari con l'Inter provare qualcosa di più poi non ci viene a cavolo abbiamo perso perché non ci è venuto sì perché non ci siamo allenati per farlo venire durante queste settimane perché abbiano dato priorità a tutt'altro quindi questi sono pensieri sparsi fatemi sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti volevo rispondere a questa domanda perché ho sempre detto va bene aspettiamo va bene aspettiamo poi ve lo dico vediamo se succede invece la risposta in mente ce l'ho ben chiara e cioè mi auguro veramente che la Juve quest'anno possa vincere mi auguro veramente che la Juve quest'anno possa vincere e poi l'anno prossimo ricominciare tutto il percorso dato che è un percorso quadrennale quello di Allegri e a giugno sarà la conclusione del terzo anno iniziare un nuovo percorso che possa dare anche più entusiasmo a una squadra che secondo me in questo momento ne ha bisogno ciao ragazzi un abbraccio